Benvenuti nel mio canale Bene, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi torniamo su un nuovo gioco che è Minecraft Pocket Edition Che hanno fatto una nuova versione con molti aggiornamenti come al solito lo andiamo a cercare sul Play Store Eccolo qui il primo risultato, costa 6,99€ se non sbaglio E hanno fatto un casino di cose, come vedete sul telefono Hanno migliorato la grafica, potenziato le prestazioni Bug risolti, acqua più acquosa, nebbia molto più nebbiosa Molte più particelle rispetto al primo, forse si intende Luce colorata sui terreni e delle nuove creature Andiamo subito a testare Eccoci ragazzi sulla schermata principale Come vedete è V0.11.0 Alpha Build 2 Ma ragazzi vi dico adesso, è uscita la Build 3 E penso uscirà un nuovo aggiornamento Come potete vedere qua la roba è un po' cambiata Qua ci sono le lingue, tra cui italiano, eccetera eccetera Ottimo Buon aggiornamento, questa parte qua intendo E sulle impostazioni, vediamo un po', qua è rimasto lo stesso Ragazzi, posso mettere una ragazza che si chiama Alex E Steve, metto la ragazza Scusate, non so perché sono uscito Ok, la sensibilità, il puntatore, bla 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 Vediamo la distanza di resa Io vi consiglio sempre di lasciarla al minimo Perché lagga molto di meno La grafica eccezionale, wow C'è lo meraviglioso visuale oscillante Che se non sbaglio c'era anche prima Se non sbaglio Ed eccoci qua Allora Ok Non mi sembra tanto brutto Vediamo l'acqua L'acqua Più acquosa A me è sempre pixelosa C'è sempre uguale, non mi è capito niente Anche la nebbia, dov'è la nebbia? Dov'è la nebbia? Io non vedo nessuna nebbia, eh ragazzi Vabbè, chi se ne frega della nebbia Andiamo avanti Vediamo un po' Creature Se hanno messo le creature vuol dire che qua c'è Uovo di calamaro Pigman zombie c'era già Uovo di ragno c'era già Gelatina Se non sbaglio non c'era Schetro Pesciolino d'argento Enderman Creeper Pipistrello Mucca No, mucca Muccelio Ah sì, quella specie di mucca rossa Che cavolo, eh Lupo Uovo di pecora Uovo di maiale Mucca Pollo E villico Ottimo Molto ottimo Devo dire che stavolta sono abbastanza soddisfatto Andiamo subito a mettere il calamaro lì Aspettiamo che muore Eh, ok ragazzi Proviamo subito la gelatina Oh merda, ho messo due Uno, due Eh, buono Molto buono Mi piace Poi il pesciolino Ah, questi qua sono quelli bastardi Che si Ecco, guarda, guarda, guarda Fio di puttana Che praticamente se tu gli vai addosso Qualsiasi altra cosa Lo picchi Lui ti viene addosso e ti fa del male Questo lo conosco Enderman che cade giù nel mondo degli inferi Perché non me lo spiego Che cazzo succede Eh, ok Un bel buggino Ma non importa Vediamo subito il pipistre Wow, il pipistre è animato bene Anche se è pixeloso Carino, carino Molto carino ragazzi Questo aggiornamento Mi piace Ragazzi Eh Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti